Salve a tutti ragazzi e bentornati su mio canale, io sono Dragon Rex e siamo qui con un nuovo episodio di Final Fantasy VII Remake. Allora ragazzi, con i nostri eroi, Cloud, Barret e Tifa, siamo arrivati nel palazzo dell'Anshira. Nell'ultimo episodio abbiamo recuperato la tessera che ci permetterà di salire, quindi prepariamoci appunto a salire le scale. Utilizzeremo le scale, non l'ascensore, quindi vorrei fare le scale anche perché, diciamo, fare l'ascensore potrebbe anche... Tanto qua c'è un baule che non avevo visto. Apriamolo. Ok, una medaglia a Poguri. Dicevo, usare l'ascensore sarebbe anche rischioso, quindi ragazzi saliamo, andiamo a salire e vediamo un po' quello che succederà. Allora, dovremmo andare di qua per le scale. vediamo un po'. Ok, ascesa prudente e quella rapida. Qui c'è un'altra zona che voglio vedere se si può andare. Intanto qua... Ok, però voglio vedere una cosa. Qua c'è il modellino della... Allora, vediamo un attimo da questa parte, se si può andare. Barrett, non buttare a terra le sedie. Ok, vediamo cosa c'è qui. Vediamo un po', ragazzi, eh. Perché comunque... Dobbiamo anche esplorare un po' la zona. Belle macchine ci sono e delle moto. Davvero molto interessanti, molto belle, molto carine. Però non c'è nient'altro. No, c'è un baule. Ottimo. Prendiamoci quest'altra... Una difesa massiccia. Una difesa massiccia. Vediamo un attimo com'è questa difesa massiccia. Vediamo se è qui. Eccola qua. Difesa massiccia. Bracciale pesante che potenzia la difesa fisica, ma è priva... Privo di alloggiamenti per materie. Eh... Questo è un... No. Essendo priva di ciò che non si possono mettere le materie... Lasciamo perdere. Allora, fateci uscire. Da questa parte si dovrebbe andare per gli ascensori. Se riusciamo a... Ce la facciamo? Non ce l'ho... Ok. Ok. Qua ci sono gli ascensori. Però, ragazzi, noi non utilizzeremo gli ascensori. E andiamo. Andiamo da questa parte. Andiamo a prendere le scale. Ok. Vediamo un po'. Da che parte dovremmo andare? C'è una strada di qua? No? Allora, vediamo un po'. Eh, forse è qua. Forse è qua, sì. Ok, perfetto. Allora, vediamo. Ok, mi sembra di capire che Barrett, visto che noi utilizzeremo le scale per avere un approccio, diciamo, prudente, devo dire che non sembra essere entusiasta per questa scelta. Ma iniziamo a salire. Vediamo un po'. Ok. 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 Saliamo, ragazzi. saliamo scusa Barrett dobbiamo arrivare al cinquantanovesimo piano ok Barrett già non ce la fa anche il nostro anche Cloud sembra un pochino stanchino perché comincia a fare scale molto lentamente siamo solo al sedicesimo piano ti fai al diciassettesimo noi siamo al quindicesimo c'ha letteralmente come si dice superato alla grande ok continuiamo a salire si è molto più in alto Barrett non c'è problema non c'è problema dai Barrett dai che ce la fai neanche molto dice Cloud giustamente non è a voglia devo dire che ti fa fisicamente è messa bene perché è già al ventottesimo piano ci ha letteralmente su classato dai Barrett dai ti aspetto eccolo qua ok riprendiamo la salita riprendiamo la salita ragazzi Barrett è dietro di noi lo abbiamo un po' aspettato tifa invece partita Barrett è uno spasso ragazzi Barrett è proprio uno spasso comunque noi stiamo salendo siamo penso a metà salita perché siamo al trentatresimo piano no non ti aspetto più Barrett sali se devi salire oh abbiamo raggiunto tifa e anche lei un po' stanca anche noi non riusciamo più a correre grande Barrett attenzione perché ci sta superando il nostro Claudio non ce la fa più ok Barrett ci ha superato incredibile Claudio non ce la fa più anche lui comincia a avere segni di cedimento siamo al quarantesimo piano intanto tifa è al quarantatresimo è già molto più avanti di noi Barrett finiranno tranquillo che finiranno e comunque non ce la fa neanche Claudio incredibile ok Barrett è più in su noi siamo ultimi perché Claudio non ce la fa praticamente più non riesce più a salire con lo sprint di prima però siamo al cinquantesimo piano perlomeno lo è tifa noi siamo al quarantasettesimo eh sì ok dovremmo esserci ragazzi perché siamo al cinquantesimo piano noi tifa un po' più in alto forse si è fermata adesso dai Barrett ce l'abbiamo quasi raggiunto la lavetta odio Claudio proprio non ce la fa più neanche lui è sfinito anche Claudio siamo agli ultimi piani non ce la fa proprio davvero più ragazzi credetemi sono al massimo per cercare di andare più veloce possibile però abbiamo quasi raggiunto Barrett che non ce la fa neanche più lui Barrett non ce la fa più volete tornare giù intanto l'abbiamo superato guardate come cammina eh appunto volevi fare le scale scendendo tifa è praticamente arrivata noi cerchiamo di arrivare a noi ci mancano due piani ragazzi Barrett che canta la vita è così è una salita grande Barrett mi fa morire davvero è un grande dovremmo essere arrivati penso sì sì siamo arrivati tifa sfinita ok siamo arrivati Barrett ancora non si vede eccolo qui siamo qua siamo qui siamo arrivati da cinquantanovesimo piano ok ok ci siamo ragazzi 70 80 90 100 110 110 90 20 sistema 80 80 20 31 41 40 41 Sì Grazie a tutti Eh certo Ok abbiamo visto Scarlet Una Non so se l'affronteremo sinceramente Anche perché Abbiamo visto qualche esperimento Allora qui Ci sono le scale sempre Noi dovremmo andare qua Ok Guardiamoci un po' Da queste parti Vediamo se c'è qualcosa Ok Guardiamoci un po' Guardiamoci un po' Guardiamoci un po' Guardiamoci un po' Sì è vero C'è qualcosa da queste parti Vediamo qui Non vorrei perdermi i bauli Qua non c'è nulla Vediamo da questa parte Qui niente Qui niente Da questa parte Ok bisogna essere autorizzata Perfetto Dovrebbero andare per forza di là Cioè qua Però Controlliamo un po' Sempre la zona Di qua Di qua si dovrebbe andare Gli ascensori Penso Ok Vediamo un po' Che Vediamo un po' Che zone Sono Ok Penso che sia uguale Sia Sia un'unica Andiamo Andiamo dalla La reception Qui E vedeva un po' Cosa succede Vai Cloud Vediamo un po' Sì È probabile Che sia una trappola Però Non lo so Vediamo Vediamo di qua vediamo un po eh si serve ok quel piano non saprei vabbè proseguiamo vediamo cosa succede dovremmo andare da questa parte penso però voglio vedere un attimo di qua c'è gente non c'è niente ok perfetto però più che altro per controllare se ci fosse qualcosa qualche baule da queste parti però non ne ho visti spero di non perdermi allora qua cosa abbiamo ascensori ok ascensori e scale vediamo qua cosa c'è non c'è c'è niente da prendere quindi saliamo ragazzi vediamo questa però un attimo là c'è le scale che noi non prenderemo le scale non le prendiamo ragazzi cioè scusate gli ascensori non prendiamo prendiamo le scale ah si è vero prendiamo le scale e saliamo a sessantesimo piano non c'è Grazie a tutti 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 Ok vediamo un po' dove dobbiamo andare Da questa parte Ok Ok Penso che la strada sia giusta Grazie a tutti Ok Ok penso che ci stiano facendo vedere con queste immagini Più o meno Andiamo di qua? Andiamo di qua? Palmer Ok, 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 quindi lui è responsabile del dipartimento aerospaziale Chi altro c'è? Chi altro c'è? Soci ... Park Rhode, i 1944 good sch蛋 Ok, ok, quindi lui è responsabile del dipartimento scientifico Bene, qua abbiamo addirittura altri soldati Oh, guarda chi c'è qua Lui lo conosciamo bene Ok, tanto sappiamo chi è lui Quello dovrebbe essere del dipartimento Militare, penso C'è qualcun altro? No, non mi sembra che ci sia altro Immagino che dobbiamo andare da quella parte Sì Anche perché non c'è altro qui da vedere Ok se ci apri la porta adesso appena finisci non ancora ok adesso dovremmo andare oh no no ok quindi questo è il un plastico diciamo della città di Midgar allora vediamo un po' com'è la situazione dobbiamo andare qua per proseguire vediamo se c'è qualche baule sembrerebbe di no quindi proseguiamo teatro virtuale teatro virtuale siamo al 61esimo piano intanto quindi andiamo non no Oh! Sì Sì, che si riuscano a fare la terra di un'errore. La riuscione del riuscione del mondo. La terra di un'errore. La terra di un'errore. Ma non è così, non è così. Questa è stata la terra di un'errore. Questa è stata la terra di un'errore. Sì Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sefiros Grazie a tutti 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 Che Che Grazie a tutti Ok Siamo a 62esimo piano All'archivio Bello Bellissimo Piante archivio Grandissimo Grazie a tutti Grazie a tutti Ok Ok Intanto ci accompagna Da sindaco Il tizio Ok Bene Che cosa borrà Bravo Barret C'è perfettamente ragione Allora Posso darmi un'occhiata In giro Prima di No Da questa parte Se vado Va bene Ok D'accordo Andiamo dal sindaco Dai Di Di Voi Il Lanzo No Ah Ah! Questo è stato un luogo al caratteristico, per esempio, per esempio, per il rinforo. Siamo così! Sì! E cosa? Ci sono stati comprati un gruppo di abarante. Ci sono stati comprati con l'abarante. Che? Che cosa? È un'obiettura. Vediamo questo luogo. Vediamo. Grazie a tutti 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 di herit dobbiamo adesso trovare un collaboratore del sindaco che ci darà al 63esimo piano una nuova tessera per salire al 64esimo con la parola d'ordine e il sindaco dovremmo dire il sindaco praticamente se l'ho capito male il sindaco è il massimo quindi dobbiamo trovare qualcuno sicuramente al 63esimo piano però noi per adesso ci fermiamo se vi è piaciuto l'episodio lasciate un bel like e iscrivetevi al canale seguitemi anche sulla mia pagina instagram e sul mio canale twitch trovate il link in descrizione e noi ragazzi ci fermiamo qui e ci vediamo al prossimo episodio di final fantasy 7 remake ciao a tutti ragazzi